A Salonicco, Laris e Loughran hanno pareggiato 1-1. Tutto nella ripresa hanno segnato Elkjar, il danese della formazione belga dell'Okeren, e Kuis sul rigore, come vedremo, ecco il gol di Elkjar. Da notare che questi due giocatori avevano segnato nella stessa porta, nella partita giocata per il gruppo 5 fra le nazionali di Grecia e Danimarca. Ecco l'azione del rigore, dopo il gol di Elkjar, dunque il pareggio di Kuis, anche qui nella stessa porta in cui aveva segnato contro la Danimarca. 1-1. 1-1.